ai microfoni del bo live quest'oggi abbiamo il professor tito boeri economista ed ex presidente dell'infs buongiorno professore buongiorno lei è qui con noi perché venerdì sarà a padova in occasione del festival della salute globale per un incontro da dal titolo abbastanza emblematico mi viene da dire perché si intitola davvero ci rubano il lavoro costi e vantaggi dell'immigrazione professore la prima domanda quindi è inevitabilmente un po provocatoria ed obbligo ma davvero ci rubano il lavoro guardi i dati fanno vedere in modo inequivocabile che gli immigrati arrivano nelle regioni nelle aree del paese in cui c'è una domanda molto forte di lavoratori e mancano i lavoratori quindi riempiono dei posti che rimarrebbero altrimenti vacanti e se guardiamo la dinamica della disoccupazione nel corso del tempo ci rendiamo conto che l'arrivo degli immigrati in genere è stata associata ad una riduzione della disoccupazione tra gli stessi italiani e quindi gli immigrati arrivano in risposta al proprio alle esigenze alla domanda di lavoro delle imprese arrivano di più quando c'è ripresa economica nel nostro paese e quindi se guardiamo i grandi numeri c'è proprio un non c'è assolutamente un effetto negativo degli immigrati sul mercato del lavoro anzi sono stati un fattore importante impedendo che alcune imprese addirittura e chiudessero poi certo non si può escludere che in alcune realtà locali per alcuni profili lavorativi e soprattutto sono mansioni che peraltro gli italiani tendono a non svolgere più perché sono lavori molto pesanti relativamente poco retribuiti ecco lì ci può essere stato per qualche periodo dello spiazzamento ma sono dei numeri molto piccoli nei grandi numeri indubbiamente l'immigrazione è stato fatto molto positivo per il nostro mercato del lavoro professore come ho detto prima lei fino a poco più di un mese fa è stato presidente dell'inps proprio da un punto di vista previdenziale in un paese in cui ci sono più ottantenni che nuovi nati si può pensare di fare a meno dell'immigrazione purtroppo assolutamente no quindi lo dico anche perché certamente l'immigrazione è un fatto costoso e costoso per le persone che sono coinvolte dall'immigrazione non dimentichiamoci è scelta sempre drammatica peraltro gli italiani lo sanno bene perché noi veniamo da generazioni di persone che andavano all'estero in passato ed è difficile comunque anche per noi accogliere persone che vengono da altri paesi talvolta di culture diverse dobbiamo fare anche noi uno sforzo per chiaramente integrare maggiormente queste persone però in un paese che in un declino demografico così accentuato come il nostro paese che ha di fronte alla prospettiva di arrivare a una situazione in cui avremo un pensionato per lavoratori voi sapete in un sistema pensionistico che funziona a ripartizione sono gli attuali lavoratori che pagano le pensioni agli attuali pensionati avere un solo lavoratore per ogni pensionato vuol dire che questo solo lavoratore si deve mettere sulle proprie spalle la pensione di questa persona tra l'altro in passato i trattamenti erano molto più generosi di quelli che verranno riservati alle future generazioni quindi questo davvero porrebbe sulle spalle di questo singolo lavoratore un peso molto molto alto e tenderebbe alla fine anche a ridurre le opportunità di impiego quindi è molto importante che arrivano i migrati e che arrivano i migrati che paghino regolarmente i contributi questo è un fattore molto importante per permettere la sostenibilità del nostro sistema previdenziale e professore da un punto di vista prettamente economico spesso l'immigrazione viene vista come ha detto anche lei come un peso come un costo a fondo perduto dai 35 euro in poi come si può far capire alla gente, alla popolazione che non è così cioè che appunto sono fondamentali anche per loro, anche per le loro pensioni e per il loro mercato di lavoro Credo che in Italia ci sia molta poca consapevolezza previdenziale si sa molto poco di come funziona il sistema pensionistico c'è anche poca consapevolezza demografica si tende a sottostimare l'invecchiamento della popolazione il fatto che noi abbiamo una popolazione che si sta spostando sempre di più verso quelle fasce di età oltre le quali normalmente non si lavora poi tra l'altro adesso il governo ha deciso anche di anticipare l'uscita verso le pensioni al tempo stesso invece c'è una sovrastima le persone ritengono che in Italia ci siano molti più immigrati di quelli che ci sono in realtà credono che ci siano circa un immigrato ogni 4 italiani cosa assolutamente non vera perché il rapporto normalmente sono attorno al 6% della popolazione in Italia quindi c'è proprio questa percezione sbagliata sia del funzionamento del sistema previdenziale che degli equilibri demografici nel nostro paese è molto importante che le istituzioni che hanno un ruolo importante proprio nel gestire queste istituzioni questi trasferimenti, il sistema di protezione sociale diano informazioni adeguate alla cittadinanza quindi in questo senso negli anni in cui ero la guida dell'Inps noi ci siamo molto impegnati sia nel favorire una maggiore consapevolezza previdenziale con l'invio delle buste arancioni e l'operazione della mia pensione futura che era un modo proprio per spiegare anche come funzionava il nostro sistema previdenziale sia anche nel fornire adeguate informazioni sugli equilibri demografici nel nostro paese mi auguro che questa operazione venga continuata Professore, una piccola ipotesi potrebbe essere anche il fatto di aumentare la natalità in Italia perché lei ha detto che appunto è molto bassa e lo vediamo naturalmente anche dai dati questo può essere una soluzione naturalmente se fattibile oppure non avrebbe alcun senso perché i contributi mi viene a dire in termini un po' grezzo servono subito? Indubbiamente promuovere la natalità è una cosa molto importante non è facile, lo sappiamo anche nell'esperienza internazionale però certamente possiamo fare di meglio per fare questo è soprattutto importante dare stabilità alle misure di sostegno alla natalità in Italia purtroppo ogni anno si inventano delle misure diverse e temporanee senza dare neanche tempo alle persone, alle famiglie di poter reagire e tra l'altro devo dire se si vuole sostenere la natalità bisogna capire che oggi coloro che maggiormente hanno figli sono gli immigrati e le loro famiglie sono spesso quelle persone soprattutto quelle di fasce di reddito più basse quelle che possono essere maggiormente reattive delle politiche pro natalità quindi se si vuole essere davvero efficaci in questo bisogna prendere come riferimento questo tipo di famiglie ci ho detto chiaramente questa politica molto importante non può avere effetti immediati sul nostro sistema previdenziale perché ci vorranno almeno 20 anni prima che queste persone possano cominciare a pagare i contributi al nostro sistema pensionistico quindi è sicuramente una politica da intraprendere una strada ma sapendo che non può avere effetti immediati Professore, allora abbiamo capito che contributi bisogna pagarli subito per pagarli naturalmente ci vuole il lavoro allora è da lunedì di due giorni fa l'allarme lanciato dall'Ox e anche le preoccupazioni avvenute ieri da Juncker su naturalmente stiamo parlando del PIL che la previsione dell'Ox è almeno 0,2% che è abbastanza diversa da quella fatta dal governo da economista secondo lei le manovre le leggi che ha fatto questo esecutivo in particolare il reddito di cittadinanza può avere un effetto concreto anche sul mercato del lavoro oppure è semplicemente un sussidio? Innanzitutto adesso il governo vedremo le stime che farà nel documento di economia e finanza di cui è eminente la presentazione quindi vedremo se anche il governo ha realisticamente rivisto a ribasso le proprie stime allineandosi alle revisioni degli organismi internazionali e di coloro che appunto fanno previsioni sull'andamento della nostra economia per quanto riguarda gli effetti di queste politiche ci sono forti rischi che possono avere un effetto negativo sul mercato del lavoro il reddito di cittadinanza è un trasferimento molto generoso per delle persone singole e molto poco generoso per le famiglie numerose quelle dove è maggiormente concentrata la povertà al sud soprattutto il livello del reddito di cittadinanza è tale da rischiare di spiazzare una parte componente del lavoro spingendo delle persone o nel lavoro nero o nella disoccupazione Professor Boeri noi la ringraziamo molto naturalmente rimandiamo gli ascoltatori al suo incontro di venerdì a Palazzo Bo naturalmente nell'ambito del Festival della Salute Globale grazie mille e buon lavoro buon lavoro anche a voi